Eccoci qua, allora parliamo di musica e vogliamo presentarvi una band molto interessante, quest'anno festeggiano il loro decimo anniversario, hanno pensato di pubblicare questo album, ve lo faccio vedere, mi hanno portato il vinile, io devo dire adoro i vinili, eccolo qua, si chiama Dieci Decimi, un album tutto dedicato alla città di Roma e loro non potevano che chiamarsi scola romana. Allora diamo il buongiorno a una rappresentanza di scola romana perché dobbiamo anche ricordare gli altri, Davide Trebbi e Edoardo Petretti, buongiorno ragazzi, che bello, tutta una romanità che ci piace perché Roma, la città di Roma, diciamolo, è la più bella al mondo, lo possiamo dire? Lo dobbiamo dire. Scola romana, dieci anni di attività insieme, erano sei anni dal vostro ultimo album e oggi avete appena pubblicato questo album, tutto dedicato appunto alla città di Roma. Allora facciamo un passo indietro, come nascono le scola romana e partiamo da questo nome d'arte? La scola romana, con questo nome che richiama un po' il latino, quindi l'SCH della scola, nasce proprio per non solo approfondire Roma e la sua storia, ma anche per recuperare tradizioni musicali e opere musicali degli ultimi 150 anni. e con vari autori appunto di inizio secolo scorso, di inizio novecento, hanno comunque sia cantato Roma nelle sue tante sfaccettature. La cosa più bella di Roma è che è una città universale, quindi dentro Roma si trova quasi tutto lo scibile umano e l'umanità possibile, diciamo, sia dal passato sia nel presente. È ovvio che non è l'unica capitale del mondo, lo sappiamo bene, però secondo noi è una di quelle capitali che merita sempre un approfondimento, quindi la scola romana nasce con questo intento. Mi pare di capire, ci sia molta cultura poi nella vostra band e Roma offre questo, se pensiamo a tutte le personalità, gli artisti che sono passati per Roma, voi vi rifate proprio a quello, Edoardo, partite da lì, cioè riprendete, come dire, i più grandi cantautori che sono passati per la città di Roma? Sì, si parte musicalmente parlando da quei riferimenti. All'interno della nostra ricerca c'è un affetto, anche che viene dimostrato nei confronti dei registi, dei poeti, degli scrittori, che non solo hanno vissuto la città ma hanno anche saputo raccontarla con un occhio sempre particolare, sempre in qualche modo più profondo del cittadino che la vive. Qualche esempio, per esempio Franco Califano? Franco Califano è uno di quegli artisti particolari, indubbiamente, indubbiamente sui generis. Però sì, ha raccontato una Roma un po' innanzitutto una Roma misteriosa, una Roma molto noir, una Roma da dolce vita in qualche modo. Come è nato? Un giorno vi siete incontrati, vi conoscevate già? Ci conoscevamo perché, vabbè, Edoardo è un musicista vero, come li definisco io, nel senso che io faccio il musicante, no? Ok, che differenza c'è? No, è una differenza tutta mia, su cui diciamo scherzo sempre, nel senso suono, canto e scrivo canzoni da sempre, nel mio caso. Edoardo è anche ovviamente diplomato al conservatorio, quindi diciamo che nasciamo come io che propongo testi e musiche e melodie, Edoardo che poi arriva mi guarda a Bonario e dice va bene, adesso però confezioniamo la secondo criterio musicale ufficiale, quindi insomma lui è il musicista. Tu sei la mastermind, Edoardo, diciamo, mi fa un po' paura, però nel senso è... No, no, lo è, lo è, nel senso che scuola romana, diciamo ecco così, come fondazione, visto che parliamo di Roma, usiamo il termine fondazione, no? Come 700 e passa nel 700 a.C., ma è un'idea che nasce da me, ma avevo bisogno assolutamente di un musicista vero e insomma con una visione allargata, come è l'Edoardo che spazia dal jazz al folk senza problemi, quindi nasce da un incontro fra, diciamolo, musicisti, io sono un cantatore, Edoardo è principalmente un musicista, per il momento ha più suonato che scritto cose sue, mettiamola così, io per il momento ho più scritto cose mie che suonate così bene le cose mie prima di incontrare Edoardo. Sì, però tu hai un plus, un bonus, secondo me rispetto agli altri che ho letto, tu parli cinque lingue? Sì, vabbè, ce ne ho tanti di plus, non tutti confessabili, in televisione, esatto, non tutti immediatamente visibili, anche dei plus meno meno meno, dei plus più più, no, no, in questo caso più più più. Sì, no, faccio tante cose, sono un tipo un po' eclettico direi, parlo tante lingue perché ho viaggiato tanto, perché mi piace il linguaggio, quindi scritto, parlato, cantato. Scrivi anche in altre lingue? Sì, sì, sì. Ho recitato, per esempio a teatro ho fatto solo spettacoli in francese, dove recitavo in francese, per dirti, quindi sì, sono capitate cose, vabbè, ma quando uno si predispone in maniera eclettica, poi la realtà ti eclettizza ulteriormente, quindi ti acchiappa e ti fa fare cose che non ti aspetteresti magari di partenza. Che bello. Però Scola Romana nasce così, capito, ci incontriamo, Edoardo insomma suona da quando è piccolo, come tutti i grandi musicisti, io suono e scrivo anche dai 14 anni più o meno, ci siamo incontrati, ognuno con le sue situazioni, io facevo più pezzi miei come Davide Trebbi, nome e cognome da cantautore classico, e abbiamo iniziato piano piano insieme anche ad altri musicisti in comune, insomma abbiamo tutto un giro di musicisti amici comuni anche, come succede spesso. Come succede spesso con le varie band? Poi magari negli anni si perde un po', ma mi sembra di capire che voi siete proprio saldi. Noi siamo rimasti, sì, è come quando vedi la lista delle varie formazioni delle band mitiche che ormai stanno da 50 anni sul palco, noi abbiamo avuto diciamo tre fasi, questa è la terza fase, Edoardo c'è dall'inizio, anch'io essendo diciamo l'ideatore del progetto non mi sono potuto esimere, ho dovuto rimanere insomma. E nasce appunto, mi avete portato sia il vinile, eccolo qua, che il cd, mi vado a casa con tanti regali oggi, se mi li lasciate, non so se... Sono tuoi. Ah grazie, mi avete reso molto felice, tra l'altro un bellissimo Gererischi a casa, perciò vi ascolterò con molto piacere e arriviamo appunto a dieci decimi. Allora, non diciamo nient'altro e ci ascoltiamo direttamente un assaggio di questo album, tutto dedicato appunto alla città di Roma. Sì, regia, prego. Grazie a tutti.